La presidenza dell'Arma dei Carabinieri ricorre nel trentennale di fondazione della FIEP. Già nel 2014, in occasione del ventennale, la presidenza fu assunta dai Carabinieri e non posso nascondervi l'emozione e l'orgoglio nel pensare che oggi, come allora, le nostre istituzioni sono un saldo riferimento per le nostre comunità e dinamica fonte di ispirazione per le forze dell'ordine nel mondo. Prendendo in contrasto i varianti centrali una priorità strategica, non solo per la protezione del patrimonio ambientale, ma anche per la lotta sia per l'impegno procuso di partecipare finalmente alle commissioni, con il suo modello di cooperazione di lavori delle quattro commissioni tematiche. Con questi sentimenti dichiaro ufficialmente aperto il trentesimo vertice FIEP. Grazie per l'attenzione ed auguro a tutti voi una giornata di proficchi lavori. Grazie. 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 Grazie.